Salve a tutti ragazzi, bentornati su Jolly Show, scusate se ho il cappello ma... I capelli troppo a cazzo perché mi hanno fatto la doccia e non avevo voglia di asciugarli quindi ve li mostro in anteprima ragazzi Comunque veniamo al punto ragazzi, mi stavo annoiando, ho detto ma perché non cerchiamo qualche gioco gratis online su internet? Vi mostro alcune cose che ho trovato ragazzi, scusate se forse la qualità video della videocamera sarà minore ma la Logitech fa cagare il cazzo con il mio computer, non capisco perché, quindi enjoy Ok bene ragazzi siamo su questo gioco presentato all'E3 del 2017, ragazzi veramente grafica della madonna, gameplay assurdo, sto parlando di Apple Shooter Camp Quindi startiamo un po' il gioco, allora praticamente noi credo dovremmo prendere la mela andando intuizione e con questo arco quindi proviamo a non uccidere la signorina Devo tenere premuto credo Oddio ragazzi Oddio che spettacolo è sto gioco Ah no è sto solo arrabbiato perché l'ho toccato le tette con la freccia, non fa male vero? L'ho completato, non ho capito davvero ragazzi che spettacolo, ok vai, da più lontano Oddio, no ok c'è rimasta secca No, liscio Liscissimo Do it, make your dreams come true Mamma mia raga Ma non ho sentito l'adrenalina, il competitive Minchia, ho colpito i piedi ma non ho detto niente, ok No ora tu dimmi come potrei centrare il bersaglio senza guardarlo E' un po' come quando ci devi provare con una tipa ma non sa Ah se le puoi piacere, magari non finisce in questo modo Ok gente come tutti sapete questa è la moda del 2017 per l'estate L'anno scorso era Pokémon Go e invece adesso è il Fridget Spinner Oh Fridget Spinner come cazzo lo potete chiamare di obon E quindi ragazzi testiamo un po' un gioco così Lugged, ok già il nome della compagnia che crea questo gioco Oggi ragazzi mi insegno come girare Fridget Spinner No, così Wow 4, 5, 6, 7, 8 No eh vabbè io allora faccio rigirare Scusate ma Ah c'è pure lo shop raga, mamma mia Vabbè raga troppe emozioni Ragazzi siamo su Hexagon Livello 1 Come si gioca Ah aspetta forse ho capito come Allora No non ho capito Gira veloce No non capisco madonna Ah devo Raga ok ho capito Allora devo evitare Che la punta venga schiacciata Da Dai cosi madonna Tastiera non mi morire adesso Ok Porca puttana Magara Raga che gioco è questo Ma perché Madonna Basta Basta Andiamo a giocare un gioco nuovo Visto E voi che vi lamentate che non porto cose mai viste su youtube Guardate qui Slitter.io Che anche questo andava un botto di moda L'anno scorso raga Come cazzo mi sto divertendo Non ve lo potete immaginare Ma c'è qualcuno online Perché non vedo nessuno Cioè sto girando la mappa da tre ore Ah aspetta forse perché Siamo finita la mappa Ragazzi diventerò il verme più lungo della storia So cosa voglio fare da grande Vabbè ragazzi direi che per questa prima avventura sui giochi online No sense Possa essere tutto Se avete vi è piaciuto Se avete tanti bei like e commentini Ditemi voi se volete rivedere un po' dei giochi così online Tanto per cose che facevo maggiormente appunto la scorsa estate E io ve li porto volentieri così tanto per cazzeggiare Quindi ragazzi insomma Un caro affetto tutto da Jolly Show Spero il video vi sia piaciuto Se non siete ancora iscritti Non ti iscrivetevi Cercatemi sempre in descrizione Se avete qualche gioco Non ho senso che volete maggiormente che io provi Ditemelo liberamente Quindi Show belli